Assessore, lei ha qualcosa da dire al WWF che nei giorni scorsi ha un po' accusato il Comune di Teramo di un taglio scellerato degli alberi? Sì, io volevo solo che magari sarebbe stato opportuno chiarire alcune questioni insieme a loro, ma ovviamente fare un documento così, dietro quei tagli ci sono delle ragioni. Per quanto riguarda le prove, come dicevo prima, c'è stata una sentenza del Tribunale che ci ha imposto l'abbattimento, ma ci ha imposto anche il risarcimento dei danni per quel cedimento di muri di convine che hanno ceduto e quindi siamo stati obbligati. Ovviamente nell'autorizzazione che abbiamo dato ci abbiamo scritto che il numero di quelle piante deve essere rimesso a dimora. Per quanto riguarda la scuola San Giorgio, c'è stato segnalato l'ammaloramento di alcune prunus che erano lì davanti alla scuola. L'agronomo, abbiamo chiesto la perizia dell'agronomo e l'agronomo ci ha segnalato la necessità di procedere all'abbattimento di tutte quelle piante che sono arrivate a fine vita e quindi possono creare situazioni di pericolo. Ovviamente io il giorno dopo mi sono regato lì a scuola, ho triangolizzato tutti che c'è da parte dell'amministrazione l'impegno a rimettere il stesso numero di alberi sempre vicino a quelle piante che sono state abbattute. Quindi io parlo normalmente sempre di sostituzione e non di abbattimento perché se togliamo un albero dobbiamo rimettere uno se non due. Vi muovete sempre sul parere dell'agronomo? Quando c'è un abbattimento sempre sul parere dell'agronomo. Ovviamente voglio ricordare questo che se c'è una relazione all'agronomo e quella pianta cade e crea un danno a qualcuno. Finché crea un danno a oggetti, all'auto, ma quando può cadere addosso a una persona se ne siamo tutti responsabili, soprattutto l'assessore, soprattutto il dirigente che ha in carico di gestire il verde. E qui non abbiamo il dovere di intervenire, ovviamente provvedere alla sostituzione. Ove è possibile? Ove è impossibile cerchiamo di andare a pian di umare in altri luoghi. Io non è una polemica la mia, voglio solo pensare che dobbiamo mettere al primo posto la sicurezza. Giusto l'osservazione degli UVF sul piano del verde. Abbiamo tutte le procedure che sono state attivate. Speriamo di procedere ad avere presto un piano del verde e quindi giusto la critica sul piano del verde perché siamo in netto ritardo.